Mister, il risultato di domenica prossima? Magari lo potessi sapere, è chiaro che noi dobbiamo assolutamente vincere questa partita perché vincendo questa partita potremmo tirarci al 99,9% e dovremmo essere salvi. Quindi ce la metteremo tutta, motivazione altissima, affinché il campionato possa finire domenica. La sorella Gelbison potrebbe pure farvi questo favore, visto che è già andata nella fase play-off? No, non mi aspetto nessun favore perché nel calcio è difficile che qualcuno ti possa regalare qualcosa, soprattutto il calcio che noi facciamo. Quindi la partita sarà affrontata con la giusta attenzione, con la giusta motivazione, con la giusta concentrazione, senza aspettare favore da nessuno. Il futuro di Mister Delisanti rimarrà da Agropoli? Ma per il momento sono concentrato a vincere questa partita. Poi se Dio vorrà ci sederemo a tavolino e potremo discutere del futuro.